capitolo 1 il moto parte seconda gli elementi del moto andiamo a vedere quali possono essere gli elementi del moto per fare questo prendiamo in considerazione questo qui parto dalla mia scala e arrivo a foce verde chiaramente cosa devo prendere in considerazione quando faccio questo devo prendere in considerazione diverse cose posso perdere diverse strade per arrivare a foce verde ne prenderò solo una che avrà un nome dopo di questa avrò questa questa una volta scelto questo dovrò prendere in considerazione quanto è lungo e quanto tempo ci metto una volta fatta la scelta del percorso io avrò che per arrivare a fondata di una scala foce verde seguo la linea viola questa linea ha un nome si chiama percorso del moto quindi indico col termine di percorso del moto le strade che abbiamo scelto per per andare da latina scala a foce verde tutte queste strade mi daranno quello che si chiama percorso del moto di questo percorso io dovrò per sapere quanto è lungo e questo qui mi dà la lunghezza del moto poi farò partire un cronometro quando arriva la parto da una scala arriva a foce verde schiaccio il cronometro lo blocco avrò registrato un certo tempo questo tempo che avrò registrato sarà la durata del moto chiaramente questi sono tre con tre concetti fondamentali quando io vado a prendere in considerazione il moto da questi concetti ne potranno nascere altri come vedremo nelle prossime lezioni innanzitutto prendiamo in considerazione la traiettoria cioè la linea viola quando un corpo si muove la sua posizione cambia istante per istante se uniamo tutte queste posizioni otteniamo una linea che chiamiamo traiettoria si dice traiettoria la linea che unisce tutti i punti occupati dal punto mobile istante per istante in questa immagine vediamo due automobili una blu una rossa di queste automobili vediamo in considerazione due linee la linea rossa sarà la linea che percorrerà l'automobile rossa e se sarà traiettoria dell'automobile rossa quella blu è la linea percorsa dall'automobile blu per arrivare al punto in cui le due automobili si incontrano e sarà la traiettoria dell'automobile blu come vedete il corpo pur essendo abbastanza grande cioè l'automobile la traiettoria è una linea cioè ha una sola dimensione la lunghezza in questo caso la traiettoria è visualizzata dalla scia lasciata dall'aereo dovuta al fatto che i gas di scarico costituiti principalmente da acqua e nitide carbonica e trovano all'esterno un'atmosfera molto fredda e quindi ghiacciano le stande lasciando una scia ben visibile e e Grazie a tutti. 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 Il modo curvilino avremo una traiettoria che sarà data da una linea curva ed è il caso di un aereo di carta che viene lanciato e difficilmente andrà sempre dritto. Avremo altri tipi di traiettoria. Il modo circolare è il modo circolare è il modo che avrò se faccio girare un corpo legato a una corda. Il modo parabolico è un modo che io ottengo se il mio corpo viene lanciato in un campo gravitazionale e il suo modo sarà quello di una parabola. Il modo ellittico è quello di un pianeta che si muove intorno al Sole. Quando abbiamo detto che dobbiamo prendere in considerazione spazio e tempo andiamo a ripassarci le unità di misura di tempo. L'unità di misura del tempo nel sistema internazionale è il secondo è definito storicamente come l'86.400esima parte del giorno solare medio. Viceversa, un attitolo così da che espongo una definizione moderna, definiamo la durata di un secondo, il tempo necessario a una particolare oscillazione dell'atomo di cesio per fare 9.192.360.770 periodi. Cioè quest'atomo di cesio, in questa particolare transizione, uscilla questo numero di volte in un secondo. Ed è molto più preciso, infatti su queste oscillazioni sono state costruite gli olologi atomici che sgarrano di qualche secondo ogni milione di anni. I multipli e sottomulti sono i minuti, ore, giorni ed anni, sottomulti i decimi e centesimi secondo. Come vedete le unità di misura sono molto differenti, i minuti e le ore sono unità di misura sessagesimale, giorni ed anni non hanno una particolare unità di misura, decimi e centesimi sono del sistema decimale. Andiamo a vedere la misura dello spazio. Come sappiamo il sistema internazionale, l'unità di misura dello spazio è il metro. E storicamente fu definita come la 440 milionesima parte del meridiano terrestre. Anche qui adesso abbiamo una definizione più precisa, ed è la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un intervallo di tempo pari a 299.792.458 secondi. E' stata utilizzata la velocità della luce perché è una delle costanti universali conosciute con miglior precisione. Esiste una differenza tra traiettoria e spostamento perché di solito la traiettoria è una linea curva. Infatti qui vediamo una traiettoria che va da Sermoneta a Bassiano. Questa traiettoria è la linea viola la cui lunghezza è 8,8 km. Lo spostamento invece sarà la distanza in linea d'aria che separa Sermoneta da Bassiano. In questo caso è molto minore e sarà circa 3,85 km. Perché? Perché è minore? Perché ha una linea retta e tutti quanti sappiamo che la distanza minore per unire due punti è un segmento e non una linea curva. E quel segmento unisce il punto di partenza e il punto di arrivo. Questo segmento rappresenta, questo segmento orientato, come perché ha una freccia, rappresenta la... Il segmento spostamento è, come vedremo più avanti, una nuova grandezza matematica che chiamiamo vettore. Grandezze scalari. Se definiscono grandezze scalari, tutte quelle grandezze che per essere sufficientemente individuate hanno bisogno solo di un valore numerico e di un'unità di misura. Ad esempio, se io dico la temperatura è 25 gradi, non ho bisogno di specificare altro perché leggo sul termometro 25 gradi centigradi ed è finita lì. Questa è una tipica grandezza scalare. I vettori che invece stabiliscono le grandezze vettoriali sono delle entità matematiche molto più interessanti e complesse di quelle grandezze scalare perché sono dei segmenti orientati ed essendo dei segmenti orientati hanno bisogno di un modulo, cioè di una lunghezza del segmento, di una direzione, cioè la retta su cui giace il segmento e di un verso, cioè la freccia del segmento orientato e di un punto di applicazione, cioè da dove parte questo vettore. Quindi, a differenza di una grandezza scalare, io devo necessariamente utilizzare almeno tre cose diverse. Qui vediamo rappresentato il segmento orientato, il modulo è rappresentato la lunghezza del vettore, la direzione è la retta su cui giace il vettore, il verso è la freccia su cui sta puntando il vettore e il punto di applicazione è dove il vettore viene applicato. Quindi, come potete vedere, una grandezza vettoriale non può essere sufficientemente individuata da un numero di unità di misura, ma debba stabilire diverse cose. Le grandezze che per essere individuate hanno bisogno di un vettore si chiamano grandezze vettoriali. Queste grandezze per essere definite hanno bisogno di, non basta un modulo di unità di misura, ad esempio se io dico 4 metri, mi sono spostato di 4 metri, significa ben poco. Perché, devo dire, un modulo, 4 metri che ha il valore numerico, mi sono spostato di 4 metri, significa che posso stare su una circonferenza che ha raggio di 4 metri. Infatti il terzo costurato di Euclida è dato un punto e un segmento, è sempre possibile tracciare una circonferenza. I punti della circonferenza saranno distanti dal centro per un valore uguale al segmento dato. Quindi 4 metri è un modulo, vi dicono che io posso stare su una circonferenza di 4 metri rispetto a prima, non ne ho concluso assolutamente nulla. La direzione è la retta su cui giace il vettore. La direzione mi darà su questa circonferenza due punti, quindi ancora una volta io non posso dire dove sono, perché se io do un modulo, 4 metri, in una direzione, ho stabilito esattamente sulla circonferenza un diametro che ha due punti, A e B. In base a questi io non so dove sto, posso stare su un punto A o sul punto B. Per sapere dove sto ho bisogno di un verso. A quel punto io posso scegliere attraverso il verso con cui mi sono spostato, se sto in A la punta del vettore è punta in A, se sto in B la punta del vettore è punta in B. Quindi una volta dati una posizione di partenza e un vettore io posso stabilire esattamente dove sono. Quindi lo spostamento è un attimo.